buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video siamo al giorno dopo la partita salinità lecce finita con il risultato di 1 a 1 oggi parlerò delle pagelle quindi ormai diciamo stiamo prendendo appuntamento con queste pagelle vabbè io dico solamente il mio pensiero come ho visto la partita e come ho visto i giocatori ruolo per ruolo quindi è solo una mia idea poi potete stare o meno a quello che dico io però alla fine poi magari me lo potete scrivere sotto se siete d'accordo con me sulle pagelle innanzitutto voglio parlare principalmente come prima cosa perché l'ho letto stamattina delle interviste dell'allenatore della Sanitana che è un gran coglione che ha detto praticamente che loro dovevano vincere la partita che hanno avuto il lecce ha diciamo avuto più possesso palla ma noi abbiamo avuto le occasioni migliori le occasioni migliori della sanità praticamente sono state solamente una un tiro un gollo cioè quindi quello vuol dire quindi significa che se non lo segnavamo loro vincevano 1 a 0 ma dovevamo giocare da soli praticamente senza nessuno la sanità giocava da sola faceva un tiro e basta vinceva la partita l'avversario non ci doveva essere perché perché praticamente se tu hai fai solo un tiro un'occasione praticamente gli altri devono guardare in quel caso la ragione lui che hanno avuto le occasioni migliori e hanno vinto la partita vabbè lasciamo stare perché sicuramente sarà pazzo è stato pure espulso quindi vabbè a parte questo comunque partiamo dal portiere ovviamente se la sanità ha fatto solo un tiro in porta ovviamente il portiere è stato stato penso che sta già in vacanza natalizze capri secondo me ieri stavo in vacanza le ha detto alla sanità io vado in vacanza voi non dovete proprio tirare in porta vabbè solo un tiro vi concedo solo un tiro e basta che poi hanno segnato perché comunque ha sbagliato un po la difesa a già poco praticamente si è perso il giocatore a parte quello comunque a già poco ha fatto una grandissima partita ma è uno dei migliori acquisti che ha fatto il lecce è troppo forte troppo troppo sia in fase di in difensiva anche se a volte pecca magari con questo caso e in fase offensiva è devastante ha avuto anche un'occasione che ha tirato si soprappone sempre sulla fascia praticamente va pure in attacco va sfonda evidentemente le vie centrali per i difensori tutto fa praticamente difensore centrocampista attaccante tutto fa tutto tutto un giocatore completo e fortissimo e sette se lo merita lucioni anche sette perché ieri è stato impeccabile tutta la partita secondo me è stata una delle migliori partite che ha fatto ma è carello un po meno però comunque anche lui ha giocato benissimo infatti la sanità non ha avuto occasione è stato principalmente merito loro e anche merito i taxi di si che è fatto molto ma molto bene in fase interdizione però ha sbagliato qualcosina in avanti infatti potevamo anche prendere qualche imbucata proprio per colpa colpa sua comunque per il resto ha fatto una grande partita taxi di se gli do un bel sei e mezzo lucioni sette e meccanello sei la sufficienza calderoni cinque ieri ha giocato male niente è un diciamo che da dopo che si è infortunato è sempre un giocatore un po mi sembra un po discontinuo ecco fa diciamo l'altra domenica ha giocato benissimo però ieri diciamo grossi sbagliava spesso in fase difensiva sì comunque ha giochicchiato però diciamo lui noi siamo abituati comunque fa dei bellissimi cross che scorre sulla fascia fa poche sgroppate come quelle che faceva l'anno scorso in serie a molto molto poche magari perché ha avuto problemi fisici e non ha recuperato bene lui era proprio l'anno scorso ci pensavano aveva dieci polmoni quest'anno invece non lo vediamo speriamo che recupera quanto prima e che ritorni ad essere un grandissimo un grandissimo giocatore la quale insomma per quanto riguarda mancoso va bene c'è nulla da dire oltre che si è procurato il rigore e anche il gollo perché ha scimmiato praticamente l'opez il nonnetto l'opez l'ha scimmiato poi gli ha fatto girare questa era ubriagato ha detto beviti la birra e poi fammi rigore e praticamente che noi dobbiamo pareggiare la partita e poi avuto anche un'occasione di testa peccato peccato perché stava vicino al portiere lui non è uno che segna di testa però gioca benissimo fase diciamo centrocampo precisa si fa sempre diciamo trovare al centro dell'azione praticamente tutte le azioni pericolose vengono quasi sempre da lui grandissimo giocatore vabbè ma non c'è nulla a dire mancoso per chi vede la partita niente 8 pieno Henderson finalmente è ritornato dopo le brutte prestazioni e l'allenatore giustamente ha lasciato in panchina lui per non perdere il posto ha giocato abbastanza bene secondo me ieri ha avuto anche va fatto anche un bellissimo cross che per poco coda non la prendeva la buttava in porta quindi no no ha giocato molto meglio sempre collegamento il solito collegamento fra centrocampo e attacco lui comunque fa dei buoni inserimenti si fa trovare anche quando lecce palleggia lui comunque un buon palleggiatore come anche listo schi che ieri ha giocato anche bene è un giocatore che c'è il dribbling molto facile listoschi e a volte si interdisce troppo però su questo dribbling però comunque un giocatore velocissimo sullo stretto si gira veloce sicuramente avrà una grande carriera a 22 anni che c'è farà una grandissima carriera sicuro è troppo forte listoschi è una scommessa di corvino e comunque ieri corini ha dato fiducia e quindi la ampiamente ha meritato insomma secondo me per quanto riguarda l'attacco ma per pettinare io mi aspettavo di più io speravo che segnava ma non ce l'ha fatta insufficienza secondo me è insufficiente vabbè quanto riguarda Henderson 6 e mezzo e listoschi pure 6 e mezzo secondo me pettinare insufficienza piena diciamo per quanto riguarda il fraseggiare palleggiare lui è uno molto bravo no diciamo si fa trovare nelle azioni diciamo da palleggio gli 1 2 però in fase diciamo che deve tirare fare no ha avuto anche ha fatto anche un tiro ma ha tirato malamente nell'ultimo 10 metri si perde un po secondo me per quanto riguarda la coda un giocatore molto molto d'utile per il lecce vabbè non c'è nulla a dire troppo forte lui anche lui è un giocatore che ci serve tantissimo come il pane quindi non sta segnando ma comunque fornisce delle grandissime prestazioni si fa trovare sempre nelle azioni più pericolose di quanto riguarda diciamo in lecce quindi peccato che ieri arrivava sempre per pochi centimetri a buttarla in porta ha avuto un paio di occasioni anche ha fatto dei buoni tiri perché sono andati fuori uno peccato è stato pure deviato però comunque si fa trovare sempre lì tutte le zone pericolose speriamo comunque che si sblocca col pisa in casa finalmente dopo tre partite abbiamo una partita un po più diciamo abbordabile abbiamo pareggiato contro tre grandi squadre però mo ci abbiamo quindi significa comunque che siamo lì per lottare per andare in serie a mo giocheremo col pisa e quindi speriamo di riscattarci finalmente diciamo ritornare a vincere insomma ecco perché comunque abbiamo fatto quattro vittorie consecutive poi abbiamo fatto tre pareggi comunque alcuni li potevamo vincere tipo come ieri sono noi dovevamo vincere per forza e dobbiamo evitare assolutamente le disattenzioni difensive che quelle sono importanti anche con le altre partite lecce praticamente basta poco una volta che uno sbaglia a una disattenzione le avversarie ne approfittano sempre purtroppo quindi è così speriamo insomma di di vincere ci vediamo al prossimo video forza lecce ovviamente bari merda tutta la vita e ci vediamo sabato che gli spaccheremo al culo ai pisani forza lecce via